Antonio, terzo anno da presidente, forse questo è l'anno in cui la Don Carlo Misilmeri vuole rompere gli indugi e puntare all'obiettivo. Ma in realtà lo avremmo voluto fare l'anno scorso, però è giusto che le cose si facciano per piccoli passi, è giusto che per arrivare ad un obiettivo bisogna faticare, quindi faticare in tutti i sensi, chi in campo per quello che deve mettere in campo, chi fuori per quello che deve dimostrare. È chiaro che è una società giovane, io sono da tre anni presidente, questo è il terzo anno proprio di presidenza piena, e quindi ovviamente tanti errori sono stati fatti, tanti errori vorremmo non fare, non ripetere quest'anno. Abbiamo cercato di aggiustare il tiro dove era giusto aggiustare e quindi in quelle parti del campo dove si sono state levate e messe altre pedine a livello di staff tecnico, a parte il mister e il mister in seconda, quindi mister Utre, mister Gaetano, Tomasino, poi il resto è tutto nuovo con un upgrade che abbiamo cercato di mantenere su tutti i livelli. E poi con dei nuovi innesti a livello societario che ci hanno permesso anche di intanto dare nuova linfa, sia a livello economico che come giusto che sia per non essere poi soli e andare a cercare risorse di qua e di là, e anche a livello di mansioni societarie, perché se vogliamo prepararci a bere del vino buono allora vuol dire che dobbiamo fare un corso di sommarie per capirne, per capire di che vino beviamo. E quindi naturalmente poi tutto va aggiustato, va sistemato, vecchie abitudini, nuove abitudini, abbiamo, e qui devo ringraziare pubblicamente il sindaco, abbiamo preso e ci hanno concesso i signori Costantino e i Visi il meglio, l'utilizzo di una struttura che ci permetterà di far stare insieme ai ragazzi per i 35 giorni della preparazione. ed è una cosa non da poco, è una cosa non da poco perché? Perché si impara a stare insieme, si impara a stare insieme dentro e fuori il campo, dove è più importante il fuori campo. Poi dentro il campo è chiaro che ci sono delle dinamiche che vengono gestite dal mister e dai giocatori. Noi cerchiamo di fare il possibile per rendere la strada il più dritto e il più liscio possibile. Poi tra le altre cose oggi, in occasione anche dell'inizio di quelle possiamo definire un ritiro a tutti gli effetti, perché la squadra si ritroverà a pranzo, si allenerà tutti insieme, l'apporto dei tifosi che non manca mai e magari avranno anche la possibilità di ritrovarsi in un Giovanni Aloisi o più a misura di tifosi. Assolutamente sì, è quello che stiamo facendo. Noi cerchiamo di portare le giuste e le dovute migliorie, che ovviamente per noi è una cosa che molte persone probabilmente non capiscono, hanno un'incidenza economica e non da poco. e purtroppo mi dispiace ma purtroppo, come nella maggior parte dei casi, l'occhio destro non può mai guardare l'occhio sinistro. Qui c'è un po' questa mentalità che stiamo cercando di scardinare, stiamo cercando di far capire che la Don Carlo Misilmeri, non Antonio Cottone, è un bene di Misilmeri. Se Misilmeri vola come vorremmo volare noi o comunque fa un campionato di alta classifica il beneficio lo abbiamo tutti, lo abbiamo tutti a livello di nomea, lo abbiamo tutti a livello di conoscenza del territorio. Misilmeri prima di tre anni fa, mi dispiace dirlo, ma a livello calcistico facevamo tanta fatica a far venire i giocatori qui. Adesso neanche abbiamo bisogno di chiamarli, molto spesso si propongono loro o i procuratori che è ancora meglio e per noi è ancora più soddisfacente. Questo purtroppo non viene capito da alcune persone. Noi stiamo provando a fare quello, stiamo provando, devo ringraziare come dicevo poco fa il sindaco che ci sta aiutando e non agevolando. Poi ognuno deve fare il suo. Il resto viene giocando domenica dopo domenica, i tifosi sono meravigliosi. Io ho notato nell'ultimo anno un notevole avvicinamento dovuto anche all'apertura della tribuna. Adesso noi proveremo a mettere la copertura, proveremo a sistemare il sistemabile. Abbiamo aggiunto l'angolo bar, insomma tante cose che sono sotto gli occhi di tutti. Tante cose che hanno dei costi e chiaramente va capito chi è che spende. I tifosi, per me l'immagine più bella non sono state le partite. Per me l'immagine più bella sono state le 300 persone che ad Agrigento, nella curva, hanno accompagnato e hanno tifato per la squadra. Mi riferisco alla finale malamente persa per 1-0 contro l'Akragas. Ma aver visto la partita in mezzo a 300 persone che comunque sia inneggiavano alla Don Carlo Misinmeri è un'immagine che riuscirò a levarmi solo se vinciamo il campionato o se comunque saremo là perché ci saranno altre tante belle immagini. Immagini che sono state tutte frutto della passione dei tifosi e non mia. Grazie a tutti! Grazie a tutti